Come sarà articolata l'iniziativa di venerdì prossimo a Gela che coinvolgerà numerose farmacie? Esattamente sono sei, le nostre volontarie in quel giorno saranno volontarie anche della Fondazione Francesca Rava saranno presente nell'orario di apertura quindi sia la mattina dalle 9 alle 13 sia nel pomeriggio dalle 16 alle 20 E cosa raccoglierete per poi donare alle famiglie che purtroppo vivono in condizioni disagiate? Noi raccoglieremo farmaci da banco cioè quei farmaci dove non è necessario avere la ricetta e tutto quello che riguarda il mondo baby care cominciando dal latte, omogeneizzati, pannolini e prodotti per l'igiene personale del bambino Insomma è una giornata dedicata tutto al mondo dell'infanzia L'anno scorso soltanto una farmacia aderita, quest'anno sei, volevate di più o vi accontentate? No per noi già veramente è un grande numero Fin d'ora ringraziamo tutte le farmacie aderenti perché saranno loro insieme alle nostre volontarie, insieme a me insomma a tutti coloro i quali si sono prestati per questa iniziativa che ci aiuteranno, i farmacisti ci aiuteranno in questa iniziativa li ringrazio vivamente, sei sono tanti speriamo l'anno prossimo di averne di più ma la provvidenza arriva sempre una cosa molto bella è che c'è stata una grande solidarietà anche tra noi volontari, anche se sono mamma in famiglia, anche se sono impegnate hanno conservato due ore, tre ore per questa iniziativa A Giola c'è un tasso di povertà spaventoso È veramente grande, guardi io sono ormai, ho una certa età veramente vedo che le cose stanno cambiando ma non sicuramente è meglio parlavo con qualcuno, dicevo che prima venivano i mariti o le moglie oggi vengono giovane coppie insieme guardi che accogliere queste persone non è facile anche da parte delle nostre volontari perché le persone hanno bisogno non solo di aiuto fisico, materiale ma hanno bisogno anche di essere supportate psicologicamente i nostri giovani, le nostre giovane coppie purtroppo molte di loro non stanno attraversando momenti facili